Ciao a tutti, benvenuti all'angolo della favola. Dal mio libro Le fila favole di Terry sto per leggervi una mia fiaba dal titolo Il viaggio allucinante di Alan. Siete pronti a viaggiare con me? Sarà finito in quest'epoca per sbaglio? Pronto il bagaglio per la partenza, la macchina del tempo lo attende. Alan sale a porto e con lui porta l'essenziale, la fede, la speranza, il coraggio e l'amore. Cos'altro potrà servirgli laddove andrà? La navicella sta decollando. Alan lascia alle spalle tutto il rumore del mondo e i frutti marci del progresso, cataclismi, falimenti politici, sciaguri ambientali, guerre, terremoti, pandemie. Alle persone che ama dice di aspettarlo. Egli va solo a capire cosa è accaduto nel corso dei secoli. Ecco Alan, un ragazzo curioso e al contempo desideroso di trovare le risposte alle molteplici domande della vita. Spesso vive il soggiorno viaggiando con la mente oltre lo spazio reale, immergendosi nell'inverosimile di quel mondo astratto. Lui, mentre stiamo descrivendo il personaggio, è già nel lontano medioevo. È lì che è nato e vissuto. Ora ricorda tutto. Oh, il suo vestito di velluto, i suoi archi, le frecce, le carrozze e i cavalli, i mercanti, i predatori e gli sciacalli, il suono delle campane e l'odore dei cammini accesi. La pietra focaia, sfregata sul lacciarino, accende la prima scintilla del fuoco. La tinozza è pronta per il bagno e il sole è già caldo per asciugarsi. Poca roba da mangiare, la preghiera quotidiana e il lavoro nei campi. Si raccoglie ciò che l'orto offre e si mangia anche oggi il pane raffermo di ieri. Oggi non ha fame. Alan esce al sole e va a dipingere nei prati. I papaveri e le primule saranno i suoi colori insieme al verde erboso e alle gialle margherite. L'azzurro del cielo sarà la tela terza. Ha deciso. Dipingerà un mondo nuovo. Poi torna, ritorna per chi l'aspetta. Mentre stava per imbarcarsi sulla macchina del tempo per fare ritorno a casa, udì una voce alle sue spalle. Fermati, non andare. Ti prego, resta qui con me. Incredulo Alan, chiese a quell'immagine di fanciulla chi lei fosse e perché gli chiedeva di restare in quell'epoca così remota rispetto a quella moderna che aveva lasciato. La fanciulla della voce lo fissò negli occhi e disse, laddove andrai c'è la tua famiglia e la tua casa confortevole, ma tutto è fatto, tutto è già compiuto negli anni. Qui invece c'è chi ha bisogno di te, della tua forza e del tuo coraggio, giusto per iniziare un nuovo percorso di vita. Alan cercò di dissuaderla dalle sue convinzioni e gli voltò le spalle, cercando di salire gli scalini della macchina del tempo, ma la fanciulla lo afferrò per le spalle. Si avvicinò, lo baciò e lo strinse forte a sé in un abbraccio accorato. Alan restò impietrito e sorpreso, ma al contempo capì che doveva restare con quella fanciulla che aveva bisogno di lui per determinare quel progetto di costruzione di un'umanità civilizzata voluto dalla fanciulla del luogo. Avrebbero potuto fare tante cose insieme, pensò. Alan restò, perdendo l'opportunità di tornare nella sua dimensione reale e poi provvisamente si innamorò di quella splendida e bella fanciulla con quell'abito sfavillante di colori lucenti come i raggi del sole che riflettevano sui fili della stoffa e sul volto di stelle della giovinetta a lui innanzi. Fu come un incantesimo. Alan si perse nei suoi occhi e si lasciò guidare da lei. La macchina del tempo svanì per sempre. La sua nuova casa era lì, tra le case povere della gente semplice. Tante persone si erano affezionate ad Alan e gli chiedevano consigli. Fu così che Alan decise di aprire una scuola a frequentazione libera, aperta ad ogni età e una moltitudine di gente vi si iscrisse. Egli si sentiva finalmente realizzato e utile all'umanità. La giovane donna di cui Alan si era perdutamente innamorato l'affiancò in quella missione, prendendosi cura dei casi sociali più disperati ed emarginati, fornendo loro un lavoro e un sostentamento. Passarono i giorni e si ritrovarono dopo un anno catapultati nella realtà odierna. Così, senza volerlo. Era scaduto il tempo. Terrorizzati dal mondo inquinato dal male e dall'aridità umana, impotenti di poter cambiare qualcosa in questa società attuale, si addormentarono per non vedere più tante sciogure e si ritrovarono così in un'altra era, ovvero nel Paleolitico. Quindi tutto da rifare. Torniamo alla Genesi e vediamo di costruire veramente un mondo nuovo, almeno con la fantasia. Grazie sempre per il vostro ascolto e la vostra pazienza. Alla prossima fiaba.